Alimentare 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 Io due e cinquanta la lepetita La lepetita, lepetita Lepetita, lepetita Vengo le bastocce Compro con mito Vendo ricerci in ore Compro butto un esifo Cogito via, in un'arma Compro sifo e pisac Butto la segna a biscotti Prendo smeriglio e cir Non ho contanti Vado a riporto fino a nel mese di novembre Sarò nel porto Se liquidos o en el dálmine polkifil Stamatino non crescono Se liquidos o en el dálmine polkifil Stamatino non crescono Capsula, doctor No Capsula, doctor La Le Capsula 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 Grazie a tutti.